Atena Lucana, piena di maschere, coriandoli e sfilate, è a lavoro la macchina organizzativa del Carnevale Atenese 2020, che si terrà domenica 23 febbraio, a curare la manifestazione che coinvolgerà tutta la cittadinanza e la prologo Atena Nova, preseduta da Mariella Di Santi. Tanta attesa, soprattutto da parte dei più piccoli, per il periodo più fessoso e colorato dell'anno, il Carnevale, con maschere parate, dolci tipici e scherzi di ogni genere. Il programma della giornata ad Atena Lucana prevede il raduno delle maschere e dei carri allegorici, alle ore 15, in piazza Vittorio Emanuele, nel centro storico. Da qui partirà la sfilata per le vie del paese, fino ad arrivare alla tappa finale, presso l'auditorium nella frazione Scalo, dove la serata sarà lietata da musica e tanto buon cibo nei vari stand gastronomici allestiti per l'occasione. Il Carnevale è una festa, ma non solo di scherzi e coriandoli, anche di folklore e tradizioni. Ecco che la prologo Atena Nova ha indetto il concorso Inventiamo la maschera Atenese, con riferimento alla figura del banditore, che era un incaricato che leggeva ad alta voce per le vie del paese e le disposizioni del comune, proclamava i bandi pubblici a suon di tromba. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare immaginando la maschera e il vestito, partendo dai racconti e dagli aneddoti legati a tale figura. A fine serata poi le premiazioni.